La giornata è stata fantastica, poi anche il pubblico ha risposto in maniera meravigliosa, mi ha dato anche la soddisfazione poi di dare anche tantissimi trucchi in più di quello che immaginavo, perché le domande sono nate e quindi anche la soddisfazione di tirare fuori del mio a livello di esperienza. Sicuramente spero che queste giornate qua si ripetano nel tempo. Grazie.